bastoncino ma che fatto stiamo a meno 7 saluta da capolist ragazzi la roma fa un miracolo bruttissima partita della roma però ci abbiamo creduto cinque minuti e cambiate tutto e quando dovete vincite e partita perché voi siete solo bravo a parlare degli altri il napoli cadrà il napoli non ce la fa il napoli così napoli colì il napoli ha vinto il napoli ha vinto 0 2 è una volta l'anno abbiamo fatto per colpito regalino all'inter che voi avete visto questo intero che non abbiamo ne abbiamo parlato l'inter si 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 l'inter ha fatto una grandissima partita ieri anche la 2 la capolista si ripara bastoncino e tu ti ruba bastoncino i stati da mare con bastoncino ragazzi il napoli ha più 7 il sogno è vicino il sogno è vicino ora capirà e voi lo dici di ambresi ma voi che volete fare? voi che volete fare? non avete vergogna di giocare a calcio così ma con queste pallone? come questo pallone? non si corre mi ha fatto una discreta partita una discreta partita ma tu 2 a 0 non devi mai fare 2 a 2 può capitare papà non è da capitare se no non può mai se no non può mai vincere uno scudetto due scudetto non lo vincere mai due scudetto tu hai paricciato tutto con una roma defumba però la roma defumba beco c'è il carattere della natura carattere per i salvi di piani e poi POOOOOO PADIC POOOOOO abbiamo fatto 2 a 2 e ora la sera con mamma che stava con un po' c'è la cucina capi il bastone capi qui ma che puoi fare mangiare 7 babà hai capi? ora mi sembra ma mi sembra fai una cosa dormi nel letto dove ha dormito a ieri con la street ah è una sagnanna capro si è stuzzolata sana sana e non l'abbia si è andata niente che ha sbagliato tutta la classifica così è una classifica una fatuva lavorano vogliono che l'abito viene radiato e così fanno la classifica ok poi capi il bastoncino perché poi in Milano tutto sommato mi è simpatico però si la presunzione delle squadre del nord e i giornalisti del nord ero rispato a meno 7 per esempio in Napoli-Catrano a meno 8 in Napoli-Catrano questa convinzione vostra di Napoli-Catrano ma io guardate a voi guardate a voi ma San Antonio è una promessa non mi sembra un 0-2 come un rigore sbagliato 0-2 è andata a mano non è caduto in Napoli no perché mi pensavo a me doveva giocare domanda ero su una di sedia poi veniremo a dimmiare poi per dimmiare poi per dimmiare poi vengono l'ora poi veniremo a dimmiare allora che la calcolatrice che la calcolatrice cambiatelo poi che la batteria perché se voi sarete ora qua non vi trovate comunque il Napoli ha più 7 da un Milan e dall'Inter capito? tutto fatichinutile tu stai facendo tutto fatichinutile giustamente poi ci provate però non è cosa un po' buio pallone sicuramente no 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 non fa parte bucurale diciamo che si prende poco su quando si prende l'improvviso il bagno il sac 2 a 1 ci ha risvegliato 5 minuti dalla fine e poi è andato è andato parabuffati ma è già divertito che poi tutto sommato nel secondo tempo la Roma ha anche meritato eh però la cosa bella è sistemare il 5 minuti dalla buona o Milano? eh ma la cosa bella ora ci ha sentito capito? ora devo sentire un po' le trasmissioni infatti dobbiamo riaccendere la televisione oh mamma il ciao di buio già prega ora lo so sai ma lo capito mi hai dato una bella idea ha sbagliato la sostituzione ha sbagliato il caso ha sbagliato la capi bastu bastoncino che intuva fatto un 2 a 2 sono due punti persi due sete a 4 minuti dalla fine ma è il Napoli Cadro è il Napoli Cadro è il Napoli Cadro il Napoli Cadro il Napoli Cadro tenete questa convinzione ragazzi shhhh shhhh più sente e poi vedremo shhhh shhhh ciao bastone ciao bastoncino ciao 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 ciao